il e la carta ma qualche musica la bocca e la gatta non riesce a ammazzarla perché se domani non riesce a ammazzarla il cane no il cane è dietro il 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 un un la la il 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 non mettete su youtube ma se stacca che sotto c'è se trova lasciato libero vediamo se ci risolverò no la scuola ssh ssh vado così penso così il